Coliretti Giovanni Ferrara In visita alla centrale del latte una giornata fuori provincia Per vedere e toccare con mano una realtà significativa Assolutamente sì Lunedì 28, quindi pochi giorni fa, siamo andati insieme al gruppo giovani Provinciale del Comitato di Ferrara Siamo andati a visitare la centrale del latte di Cesena Questo perché? Perché volevamo visitare una realtà diversa Toccare con mano una realtà che nel nostro territorio non è presente E renderci conto che comunque una realtà così piccola Tra virgolette in un territorio così vasto Può comunque fare la differenza attraverso la qualità La valorizzazione del proprio prodotto E la valorizzazione dei propri soci Che è quello che comunque fa la differenza Quindi abbiamo visto tutti i punti della filiera produttiva del latte Dalla mungitura fino al trasporto in centrale Le analisi del laboratorio del prodotto Quindi tutta la parte chimica, chiamiamola così Di progettazione poi dell'analisi Che faranno sì che il prodotto poi diventerà In primis latte Poi verrà trasformato in formaggio e altri derivati Esempio yogurt e altri prodotti Perché avete scelto la centrale del latte di Cesena? Ora perché Cesena? Perché tre realtà produttive del nostro territorio Conferiscono il latte alla centrale di Cesena Una di queste è un nostro membro del consiglio provinciale Quindi una nostra azienda Cesena anche perché è una delle prime realtà Che attraverso un processo di tracciabilità Dà la possibilità al consumatore di rintracciare L'azienda da cui proviene il latte Che poi consuma Attraverso l'acquisizione del QR code Presente in etichetta Quindi sulla bottiglia Che cos'è che vi è rimasto particolarmente impresso Anche dal vostro punto di vista Giovedì digitali, chiamiamoli così Rispetto alla tradizione ma anche l'innovazione Ma quello che ci è rimasto impresso E quello che è rimasto impresso diciamo ai ragazzi Secondo me è proprio come dicevo prima La valorizzazione del prodotto Nel senso che abbiamo veramente toccato dei punti cardine Poi che ci troviamo nelle nostre politiche Quindi la qualità in primis La tracciabilità L'etichettatura E la trasparenza comunque di quello Di quello che ci troviamo poi sulle nostre tavole Che è alla base di tutto ecco per intenderci Poi c'è anche l'aspetto legato alla redditività Dell'imprenditore agricolo Assolutamente sì Perché il fine è sempre quello Nel senso che comunque il socio Il produttore, il contadino Deve trovare nella propria attività Anche una redditività Quindi una valorizzazione del proprio prodotto E una giusta remunerazione del proprio prodotto Tra le novità della centrale del latte di Cesena Tanti prodotti Qualcuno da segnalare in particolare? Il formaggione Abbiamo avuto l'opportunità Alla fine della nostra visita Di degustare alcuni prodotti Fra cui la ricotta Il formaggione E il gelato Tutti molto buoni E tutti molto Tutti prodotti di qualità La giornata poi è continuata E finita All'agriturismo La Rocca Che è di una Di una componente del Del comitato di Forlice-Sena Con cui abbiamo collaborato Durante l'organizzazione di questa visita E giornata guidata E Perché l'agriturismo La Rocca? Perché siamo andati là? Perché abbiamo voluto Anche Finire la filiera Nel senso che Latte, mucca, formaggio E poi anche Siamo andati a mangiare il formaggio In questo agriturismo Che è rifornito Dalla stessa centrale Festa del ringraziamento Col diretti 2024 Un appuntamento Imperdibile Per tantissimi ferraresi E non solo Un momento molto atteso Sicuramente anche per noi dipendenti Che quest'anno avremo il piacere Di ospitare Circa da tutte le zone d'Italia 40 produttori Che verranno a portare i loro prodotti A presentare i loro prodotti E a presenziare Sul listone di Piazza Trento Trieste Sotto la Tenso Struttura Che appunto Quest'anno ospiterà Quest'anno ospiterà come Gli anni scorsi La mostra mercato Dei produttori di Campagna Amica Quest'anno abbiamo un programma Molto vario Molto pieno di attività Che andranno ad arricchire Sempre di più Queste tre giornate Che per noi sono fondamentali Partiremo il venerdì 8 novembre Alle ore 9 Con l'apertura della mostra mercato A cui succederà subito dopo Alle ore 9.30 circa Il primo workshop dei tre Che diciamo saranno protagonisti Delle tre giornate del ringraziamento Workshop a tema infanzia Chiamiamolo così In senso che ospiteremo Circa una quarantina di bambini Della scuola paritaria Chiara e Francesco Si chiama Bambini piccoli Perché avranno dai tre ai cinque anni Quindi molto molto piccoli Ma che avranno il piacere Di partecipare a questo laboratorio Dove conosceranno un po' La musica dei semi Quindi le varie tipologie di semi Che la natura offre Avranno il piacere di cimentarsi Diciamo con la scoperta dell'aglio E di come si intreccia Una treccia d'aglio proprio Quindi lavoreranno a stretto contatto Con i prodotti dell'agricoltura Dopodiché Subito successivamente al workshop Passeremo al momento clou Del venerdì della prima giornata Ovvero l'inaugurazione Delle nostre giornate provinciali Del ringraziamento Inaugurazione che avrà luogo Sempre sull'istone di Piazza Trento e Trieste Alle ore 10 e 30 Con il taglio del nastro E quindi che sarà segno e simbolo Di apertura generale Di questo programma Subito al pomeriggio del venerdì Poi ospiteremo il primo convegno Dove la tematica sarà strettamente tecnica Perché riguarderà principalmente I prossimi bandi e le prossime opportunità Per gli agricoltori Sia giovani che non Nelle tematiche di settore Prettamente relativa agli investimenti Questo convegno molto importante Di tematiche molto rilevanti Sarà tra l'altro a cura Di col diretti Giovani Impresa Ferrara Uno dei nostri movimenti Che si occuperà di gestire Tutto il convegno Dall'inizio alla fine E avranno il piacere di presenziare Di relazionare anche Alcuni dei componenti Proprio del movimento Di giovani col diretti Ferrara La seconda giornata Delle giornate provinciali Del ringraziamento Sabato 9 novembre Partirà con il convegno principale Se così possiamo definirlo A cura di col diretti Ferrara Dove le tematiche Toccheranno principalmente Quella che è la politica Del cibo nelle città Successivamente poi proseguiamo Con una dimostrazione aperta al pubblico Quindi questo è un invito Che faccio a chiunque Ha il piacere Avrà il piacere Di venirci a trovare Dove ci sarà sicuramente La possibilità di assaggiare Un pezzo di parmigiano E l'occasione di vedere Proprio come verrà intagliata Una forma di parmigiano Sotto la tensostruttura Di piazza Trento Trieste In un secondo momento All'interno del pomeriggio Diciamo Della giornata del sabato Invece avrà luogo Il secondo workshop Dove la tematica Sarà incentrata Sugli allevamenti delle osteri E sarà a cura Di Coldiretti Pesca Ferrara In conclusione Arriviamo a domenica 10 novembre Quindi l'ultima giornata Di questo importante evento Dove terremo L'evento principale Tradizionale Di queste tre giornate Ovvero La sfilata Dei trattori Dei soci Coldiretti Nella città di Ferrara Che sfileranno Davanti al castello Estense Fino ad arrivare Sul sagrato del Duomo Duomo che quest'anno Ospiterà Il momento della Santa Messa Del ringraziamento Alle ore 11.30 di domenica La Santa Messa Che sarà celebrata Da Monsignor Perego Arcivesco di Ferrara E Comacchio Successivamente Poi alla Santa Messa Del ringraziamento Avremo Come ogni anno La benedizione Dei trattori agricoli Sempre sul sagrato Del Duomo Momento fondamentale Per i cittadini Ma soprattutto Per i nostri soci Di riconoscimento E di rappresentanza Soprattutto Ricordo che In attesa Dell'arrivo Dei trattori Nella città di Ferrara Sotto la tensostruttura Delle nostre giornate Del ringraziamento Dove è presente La mostra a mercato Dei produttori Di Campagna Amica Si terrà Il terzo E ultimo workshop Quindi Momento conviviale Sicuramente E di Possiamo dire Di avvicinamento A quella che è La realtà agricola Ma non solo Perché questo Terzo workshop Sarà a cura Di Coldiretti Senior Dove non si parlerà Tanto di tematiche Legate all'agricoltura Quanto più legate Al benessere Infatti L'argomento principale Sarà proprio Come combattere L'ipertensione E avremo il piacere Appunto di ospitare I nostri soci senior Che sicuramente In questi momenti Hanno il piacere Di condividere Il loro parere La loro esperienza E di assistere Sicuramente A queste iniziative Vi invitiamo A dedicare L'intero pomeriggio Della domenica Ai nostri produttori Di Campagna Amica Che sono posizionati Sul listone Fino a domenica sera Alle ore 18 Quindi avrete tutto il tempo Per scoprire Quelli che sono i prodotti Che porta Questo ringraziamento 2024 A cura di Coldiretti Ferrara E vi aspettiamo A presto a domenica A presto a domenica